I toscani stanno meglio di 5 anni fa, vivono più a lungo e in generale godono di buona salute. È il quadro che emerge dalla relazione sanitaria regionale 2009-2013 presentata dall'assessore alla salute Luigi Marroni, il direttore generale dell'assessorato Valtere Giovannini e il presidente dell'agenzia regionale di sanità Francesco Cipriani. C'è un prolungamento dello stato di vita e, altra cosa importante, anche nella parte degli anziani, dei grandi anziani, sta migliorando anche la qualità della vita, cioè si vive più a lungo e anche con condizioni di autosufficienza maggiori. La relazione evidenzia tra l'altro come l'aspettativa di vita in Toscana sia tra le più alte d'Italia, 85 anni per le donne e 80 per gli uomini, un dato che cresce costantemente, di tre mesi ogni anno. Numeri che è stato spiegato affondano le radici in uno stile di vita mediamente più sano di quello delle altre regioni italiane. In Toscana ci sono meno eccessi, meno ubriacature, per capirsi, nel consumo di alcol rispetto ad altre regioni. Si fa un po' più attività fisica che nelle altre regioni, cosa molto importante questo per la qualità e la durata della vita, e si mangia anche un po' meglio. Molto positivi anche i numeri sulle nuove nascite, coi minimi storici di mortalità infantile, tre casi su mille, e di contro i livelli più alti in Italia di parti naturali e donne che allattano al seno. Quella più a rischio resta così la categoria degli adolescenti, sia a causa dell'uso di alcol, fumo e sostanze stupefacenti, sia per il fenomeno, sempre a livelli preoccupanti, degli incidenti stradali.